Se questo video raggiunge 5.000 commenti mi faccio i capelli così 4.000 sono miei Quindi commentate più che potete 5.000 commenti mi faccio i capelli così Ragazzi, ragazzi vogliamo noi in italiano Buon day, io sono barbuto ma non ho la barba Piccola intro per darvi una notizia prima di iniziare questo video Anzi le notizie sono due Allora, visto che è Natale voglio farvi un regalo Quindi ho deciso di mettere in sconto gli ultimi pezzi disponibili di questa felpa Ci sono solo 50 pezzi tra nera e bianca Quindi li ho messi in sconto Potete aggiudicarveli solo per oggi in sconto E anche tutte le altre felpe delle vecchie edizioni sono in sconto Solo per oggi perché è Natale Quindi questa era una notizia brevissima, link in descrizione La seconda notizia è che siamo arrivati al 23 È stato un mese incredibile, un video al giorno Il calendario dell'avvento quest'anno sono stato io Vi ho accompagnati per 23 giorni di seguito Saltando solo un giorno per problemi Però sono riuscito a caricare un video al giorno E ho deciso, questa è la seconda notizia Che i video non finiranno oggi Ma prenderò solo due giorni di pausa per la vigilia Natale E il 27 si ricomincia con un video al giorno fino al 31 Quindi questi due giorni andatevi a vedere tutti i video Lasciate mi piace e commentate Perché il 27 ci rivediamo E ci sarà un ritorno, un gran ritorno Il ritorno ve lo dirò durante il video Ora vi lascio questa piccola introduzione con queste due bellissime notizie Buon day Io sono barbuto Ma non ho la barba Ecco E io sono Martina ragazzi E io sono barbuto Allora oggi siamo qui con la mia sorellina per una challenge Incredibile Spettacolo Come le nostre felpe Felpe nuove Nuova collezione Spettacolo Link in descrizione per acquistarle Benissimo Allora Oggi abbiamo bisogno dell'aiuto della regia Perché faremo una challenge Una sfida Dove proveremo a indovinare l'età Dei tiktoker più famosi al mondo Può dire al mondo Sì Dei tiktoker Al mondo Si può dire? Si Si può dire Quindi dalla regia ci mostreranno delle foto Una per uno E noi ovviamente con il nostro tasto magico Ormai conosciuto come Tasto Maltrattato Cercheremo di prenotarci senza barare Martina Non lo dire L'ultimo auto si è stato solo a barare Ok Non cominciamo che mi altro Ho già saputo Cercheremo di Oh mi raccomando Cercheremo di tenere il ponteggio giusto Perché ogni volta qua ci sbagliamo Fammi mettere comodo Allora Dalla regia Con la cover che si intona la felca pelosa Ok Iniziamo Qua c'è il tasto Ok Lì è la foto E via Sì 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 Allora Lui è del 97 Quindi ha 22 anni Come facciamo a controllare? Giusto A me no però A te no Come fanno a vederti? Ok La regia è confusa Sì 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 Aspetta 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 Devo vedere chi è E quella lì Eh io ho capito chi è ma Dove è un frenoto Ma vai è che Dai però devi dare il via Per quando si è scopronato Allora secondo me lei Sì ma dove vai? Eh voglio vederla non vedo Secondo me lei ha Sparo eh 17 anni Cosa dirla anche io? Vai Secondo te quanti anni ha? Secondo me è 17 Sì ma non la devi vedere te la regia Sì anche secondo me Anche secondo te 17 Come si chiama? Del 2000 Del 2000 Eh io Cioè Si vede che ha 19 anni Però pensavo Cioè comunque in America Sembrano tutte più grandi Quindi 19 anni abbiamo Cannato Tutti Ok Prossima gira Gira E neanche il tempo però 2001 ragazzi Non controllo anche Perché tanto sappiamo Che Martina è innamorata Di lui Degli amici Di tutto il suo gruppo Scusate E' la mia seconda crush E' la mia seconda crush La mia prima Lo sappiamo tutti qual è Quindi punto per Martina 1 a 1 La sfida qua si fa interessante Lei è 04 La Questa qua è famosissima Questa qua è famosissima Charlie È 04 Charlie 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 Eh quella lì sì Proprio lei Charlie Charlie D'Amelio D'Amelio Come si dice D'Amelio o D'Amelio? Scrivetelo nei commenti Quindi qua siamo 2 A 1 ragazzi Eh dai Sì ma mettilo più in mezzo Sto cosa vedi che cominci già a varare Eh non mi va bene Gira Dai Non vai Allora lui No non varare Non varare No Varare Il mio ginocchio non è il testo della prenotazione Eh però tu lo sposti Allora lui secondo me Eh Io lo so 17 anni Quindi che anno è? Quindi 2002 2001 2001 Secondo te Ah non lo sai neanche tu? No in realtà dovrebbe essere 2001 Vediamo Perché è la mia terza crash Ebbene ragazzi avevo ragione 2001 Sì io ho detto 2001 Tu hai detto 2002 Chi hai detto 2001? Mamma ha detto 2002 Io ho detto 2001 Per favore dillo Ha detto 2002 Ho detto 2002? Sì e io ho detto 2001 E tu è 2001 Dalla regiona Dalla regia Ci suggeriscono che Il punto è di Martina 2 a 2 Quello ho bisogno di superpotere No dai prendi il coso Aspetta 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 Quanto siamo? 2 a 2 2 a 2 Cominciamo Mi prenoto Mamma è Lui è Logan Paul Lo so benissimo Chi è? Cazzaro sono indeciso Se è del 96 o del 95 Secondo me 95 Secondo me 95 Ma che copia di merda 95 95 A chi fa il punto? A quel barbuto senza la barba Che io mi sono premodato io Io non lo dico più Poi gli ho detto Sono indeciso 3 Dai Metti in mezzo Superpotere funzionano Aspetta Eh Eh mo ti voglio Jake Jake Paul È più giovane di Logan È più giovane di Logan Quindi secondo me 97 Ho stato attaccato Che ho la faccia da 97 I superpoteri sono fasuli Sono faltrocchi Metti in mezzo Hashtag faltrocchi Ah il comito Ci siamo Quindi siamo 3 Non fare il tuo movimento Del pifero Hashtag pifero Guarda E gira Chi è? Ma chi è questo? Lui è Candy Can Ma chi è? Uno su TikTok spacca Fa morire da ridere Non ho mai visto Ti giuro Secondo me A guardarlo No allora A guardarlo Sembra più Cioè sembra grande Però secondo me Non è così grande Eh Secondo me 98 98 No 98 Scusate 95 Siamo lì eh Perché volevo dire Non ha nemmeno Dall'attento 95 Secondo me Lui è 98 Secondo me Lui è 96 Proviamo a cercare Secondo me lo sai No non lo so E fai finta di niente Candy Can Candy Can 92 Ma io l'ho detto che era vecchio Cioè vecchio grande Cioè vecchio 27 anni Ci ha fregato Cavola Non punta nessuno Quanto siamo? No non si mantiene Siamo sempre 3 a 3 Sì Basta con questa cosa Mettilo in mezzo E non devi girare Gira non hai girato Eh E se vuoi guardare Non so Ma lei o lui? Lui Lui Lei è la sorella Lei? No 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 Lei è una sosa di Arianna Grandi Arianna Grandi Arianna Grandi Vabbè 5 a 4 Vabbè 5 a 4 No tagli quella mano però Togli la Giri Eh Eh mo eh Secondo te del 96 No ragazzi Cambio No eh 2000 2000 Secondo me del 97 Andrew Davila Andrew Davila Del 2000 Ho indovinato No Ho detto 2000 Ha detto 2000 No state parando No ti giuro che non so chi sia Non so chi sia Cash Baker Ah questo lo Secondo me lui è 2003 Sì 2003 2002 Vediamo 2003 Ho sparato a casa Vai Cioè 6 a 5 No Che sei a 5 5 a 5 No Sì Ma avete indovinato tutte le due? No c'è 5 a 5 Ma gira Giri Avanti col pro Gio Albanese 98 Lo sai già scombare No non lo so Sei un barone Non lo so Gio è l'albanese Eccolo qua 2001 Io cosa ho detto 99 Io ho detto 99 Abbiamo cannato Questo qua l'abbiamo cannato Metti in mezzo Ci ha fatto un trabocchino Metti in mezzo Giuseppe se pare mi irrabbio Ah L'anello Secondo me sono del Non si è fatta niente Spicchio veramente 98 Guarda sono Che twins Che sono 98 98 Beh Ma tutte e due 23 anni Quindi sono del 96 Io ho detto 99 Io non ho detto l'età No l'ho detto Ho detto 96 L'ho detto hanno la mia età Ma non è vero mai Non l'ha detta Non l'ha detta Ragazzi è un barone È un barone Che non è altro Non sa perdere Non sa perdere Incredibile questo ragazzo Aspetta il canale mio Dove vincere io Ma come vuol dire Vieni mi ti tiro una scoreggia Aia Non ci provare Sai Quindi Puzzone Quindi metti in mezzo Occhio Non è il punto di nessuno Dillo È lui È lui È proprio lui È proprio lui Francesco e il nino È lui Francesco e il nino Francesco e il nino Francesco e il nino Francesco e il nino Vi do una notizia incredibile Mi stai strozzando Francesco e il nino Prima di fine anno Tornerà 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 Non mi strozzare Ma se volete che tu Dovete commentare tutti con il hashtag Francesco e il nino Santo Domingo Spero che ci saranno tantissimi commenti Con Francesco e il nino De Santos Domingo Savera De Carbonara De Lasagna Tornerà Sì devi dire l'età intanto Lui è Lui è la solita 98 Secondo me Lui è 98 97 97 vediamo Tu la sai Perché tu l'hai stalkerato No non è lui È possibile che lui Barcellona Sì che lui E lui Ma dai non c'è anche la foto Devi farlo Victor Ma dai è impossibile Ricercalo Non sei sicuri che il famous sport È l'età giusta Ma io te l'ho detto che dice sbagliate Cioè tu non mi credi Victor Perez Sì c'è il calciatore qua Ecco vedi 98 98 98 Vinse Il Giuse Cioè vince Ci siamo Aspetta punto per Giuse Quanto siamo? No ragazzi basta Non è possibile che si facciamo sempre così Però No signora No questa è mia Giuseppe Per favore smessila Lui ragazzi Ecco mi presento Neon Noin Hashtag neon Ragazzi mi presento Ce l'abbiamo al neon E stai fitto Io c'ho un neo qua Mi presento ragazzi La mia super crush numero uno Lui ragazzi È duemila e due E lo so a memoria Anche io mi devo fare i capelli così adesso Ah se questo video raggiunge Ma non ce n'è più così ora Se questo video raggiunge Cinquemila commenti Mi faccio i capelli così Quattromila sono miei Quindi commentate più che potete Cinquemila commenti Mi faccio i capelli così Ragazzi Ragazzi vogliamo noi in italiano Allora questa mash Purtroppo Purtroppo Lo so che Lo so che voi Facevate il tifo per me Ma ha vinto lei Ma ragazzi Ma di cosa stiamo parlando Cioè Io ho vinto Già Da inizio del video Cioè Non abbiamo capito qua Va bene Allora salutiamo Martina Vi auguro un buon Natale Ci vediamo al 27 Si riprendono i video giornali Anche nel 31 Martina ha vinto Lo so che vi state chiudendo il video Perché Martina ha vinto Lo so Lo so Lo so È come vedere la Juventus Che perde contro la Lazio Ma smettila ragazzi Allora Spero che questo video vi sia piaciuto In tal caso Lasciate un mi piace Un commento Iscrivetevi al cavale 5.000 commenti Giuseppe Diventa noi In italiano Ciao Ciao Sì